Decine le chiamate che gli assessori del comune di Rimini ricevono ogni giorno da operatori e imprenditori, da perrucchiere agli ambulanti, passando per hotelli e stabilimenti vanneari per sapere non solo quando reperire, ma anche in quali modalità. L'amministrazione comunale ha messo in campo un progetto, Rimini Open Source, per il ridissegno della socialità urbana nella fase 2 dell'epidemia. Lo scopo è far convivere oltre 2.000 attività economiche che danno lavoro a 20.000 persone con il distanziamento sociale. Bar e ristoranti, laddove possibile, potranno allargarsi su marciapiedi e persino sulle strade al posto dei parcheggi. Il suo pubblico in più sarà messo a disposizione gratuitamente. I tecnici comunali, fanno sapere gli assessori Sadegolvà de Frisoni nella prima conferenza stampa web del comune, stanno già facendo i sopralluoghi dai viali delle regine alla periferia. Nei parchi sarà inoltre consentito il delivery e lì le palestre potranno svolgere i corsi solitamente tenuti al chiuso. Consegne del cibo anche sotto gli ombrelloni, che saranno più distanziati del solito. Il comune si impegna poi a rimodulare i tributi di Tari e Cosap, ma chiede ai proprietari di immobili di abbassare gli affitti ai negozianti. Se lo faranno, i locatori avranno sconti sull'Imu. È inconcepibile che certi canoni di locazione, con purtroppo la gravissima crisi economica che stiamo vivendo e che non ci lascerà a brevissimo, che i proprietari degli immobili non rivedano gli affitti. Allo studio anche nuove ciclabili per scongiurare una corsa all'auto. Per quanto costino poco, si stima che questi interventi costano sugli 8 mila euro a chilometro, quindi non sono costi esagerati, però anche i comuni hanno adesso una difficoltà di bilancio estrema, pertanto abbiamo chiesto per esempio di poter rimodulare alcuni finanziamenti che abbiamo per poterli dedicare. Grazie a tutti.